Non sono da meno i primi due con Bollet che attacca al massimo ed è ormai a contatto con Pichon che sembra quasi aver deciso di vedere cosa è in grado di fare Fredrick. Infatti Michel allarga la traiettoria e lascia passare Bollet che adesso deve dimostrare di essere... Dopo aver lasciato l'iniziativa a Bollet per qualche giro, Pichon lo riprende e passa di nuovo al comando nonostante il tentativo di difesa di Fredrick. Il messaggio di Michel è chiaro, questo è il mio mondiale e faccio quello che mi pare. Bollet sa bene che perdere questo duello sarebbe quasi come cedere già alla tabella numero uno ma in questo momento Pichon è incontenibile. Ultimi metri di gara per Pichon, sua supremazia in questo campionato. Beirer e De Maria a 54 e Reid a 50.